Destinati fondi per quasi 8 milioni di euro al presidio ospedaliero di Agropoli, si tratta di vecchi decreti che sono stati sbloccati e che forniranno al presidio ospedaliero cittadino le attrezzature e le tecnologie necessarie. Tali fondi certamente saranno funzionali all'attivazione del pronto soccorso medico H24, annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola. A breve saranno operativi H24, il laboratorio analisi e la radiologia, ad oggi attivo in H12, saranno attivi in H24 anche la guardia in anestesiologia e in cardiologia, quest'ultima a seguito di reclusamento dal concorso. Come già riferito poi, sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle sale operatorie, avviate tutte le gare per le apparecchiature necessarie al servizio di sterilizzazione ed allestimento di due sale operatorie, più una terapia intensiva post-operatoria necessaria alla messa in sicurezza sia dei pazienti operati sia di quelli che afferiscono al pronto soccorso. Il percorso, afferma il sindaco Coppola, verso l'attivazione del pronto soccorso medico H24 prosegue. Sono stati destinati alla struttura ospedaliera fondi per circa 8 milioni di euro. Si attende il personale utile affinché si possa andare presto a pieno regime. Si sta lavorando quotidianamente, precisa, per poter portare a casa il risultato atteso da tutti i concittadini e da altri utenti del comprensorio occidentano, di un presidio di salute attivo sempre e non operante a tempo. Potremmo dirci soddisfatti, conclude, solo quando il diritto alla salute tornerà ad essere tutelato a pieno.